Oggi è lunedì, 28 maggio 2018, ci troviamo al nuovo di via Olimpia di Castelfrentano per l'ultima gara del campionato provinciale categoria giovanissimi Girone Chieti. È l'ultima gara, tredicesima giornata di ritorno e si conclude oggi il campionato dei giovanissimi. Qui vediamo i nostri ragazzi della Virtus Castelfrentano che giocheranno con la classica divisa giallorossa, mentre gli ospiti la Virtus Ortona 2008 con la divisa gialla, gialla e pantaloncini neri. Qua abbiamo anche il coordinatore tecnico della scuola calcio settore giovanile, mister Gabriele di Felice, che non manca mai a un evento, si può dire, tutta la settimana sempre impegnato, il mister. Dentro e fuori c'è anche Pitbull che è ancora infortunato però vuole stare vicino ai suoi compagni. Il blocco dei titolari è qua. C'è Simone che partirà con la maglia numero 6, il nostro bomber Luca Rulli col numero 10, Riccardo col numero 8, Oggi è rientrato anche Enrico Caporale col numero 11, dopo abbiamo Nicolò che è il capitano col numero 4, abbiamo il portiere Daniel in porta, il numero 5 Emanuele, il numero 7 Ramondi Alessandro, c'è Didonato che anche lui parte, adesso c'è Larnè che è ritornato dopo una piccola assenza, Larnè con il numero 9, Enrico con il numero 11, Abbiamo Simone con il numero 6, L'uomo c'è Tenaglia Nicola con il numero 3, il nostro Luca Rulli, l'ha in fondo con la maglia gialla come anzidetto, la Virtus Ortona 2008, il direttore di gara sta chiamando per l'appello ai ragazzi, si fa il rientro in campo, oggi la panchina è corta, c'è Di Fresco Matteo, Di Fresco Franco in panchina, insieme con Alex Mammarella, secondo portiere c'è Diego Pio Massimini, tutti dentro lo spogliatoio per l'appello. Signore e signori, alla prossima ripresa sarà l'entrata in campo. Grazie a tutti!